Ciao a tutti e benvenuti alla mia prima recensione. Oggi recensirò Amplitude, un videogioco musicale per PS2 sviluppato dall'Harmonix nel 2003. Amplitude è il sequel di Frequency, un altro gioco musicale per PS2 sviluppato dalla Harmonix rilasciato al novembre del 2001. Come potete vedere, il gioco fu poi pubblicato dalla Sony Computer Entertainment. Tengo anche a precisare che l'Harmonix fa parte degli sviluppatori della serie di giochi musicali Guitar Hero. Infatti Guitar Hero è nato grazie a Frequency ed Amplitude e appena vi è posto il gameplay capirete anche perché. Questa è la schermata del titolo e come ogni classico gioco per PS2 che si rispetti bisogna prendere Start per poter accedere al menu principale. Da questo menu possiamo subito iniziare a giocare in singolo e in multigiocatore, online e accedere alle opzioni del gioco. Prima di cominciare a giocare bisognerà creare il nostro alter ego digitale che Amplitude chiama Freq. Termina sicuramente trattuta Frequency, sicuramente. Tuttavia la creazione del Freq è veramente molto semplice. Possiamo scegliere fra diversi modelli predefiniti. Oppure possiamo crearcene uno noi personalizzato, oppure ancora sceglierne uno e generarlo casualmente. Possiamo anche dargli poi un nome e confermare ovviamente. Non badate a questo messaggio. È solo che sto giocando da Amplitude senza memory card, altrimenti avrei già i salvataggi e le cose. Sarebbe brutto da far vedere in una recensione, no? Il gioco singolo si basa su quattro difficoltà. Semplice, normale, brutale e folle. Una volta scelta la difficoltà ci verranno proposti sei mondi, chiamiamoli così. In ogni mondo ci sono diverse canzoni. Il primo mondo è l'allenamento, dove veramente ci verrà spiegato in breve il gioco, le basi del gioco. Bene, l'ultimo tasto di cui ti parlerò è il tasto R2. Serve per distruggere le note sulla parte destra della traccia. Al termine dell'allenamento, oppure saltandolo o premendo Start, verrà sbloccato il primo mondo di gioco effettivo, ovvero Neotropolis, che è il nome. Ma adesso passiamo al gameplay. Come potete vedere è molto simile a quello di Guitar Hero. E a quanto pare è stato anche riproposto, in parte, nel nuovo Rock Band Blitz. Ma Amplitude, al contrario della sua apparenza, non è affatto un gioco completamente facile e semplice. Infatti, esistono anche livelli abbastanza difficili ed impegnativi, come questi spezzoni che adesso vi propongo. Vabbè, e molti altri ancora. Che adesso non vi sto a mostrare perché altrimenti questo video durerà più di un film. Comunque, il bello di Amplitude è giocarlo alle difficoltà brutale e folle, secondo me. Perché è lì che vi mette a prova e vi fa proprio entrare nello spirito del gioco. Perché a difficoltà normale ancora qualcosa c'è, a difficoltà semplice comunque è proprio schifoso. Ma anche se giocate in difficoltà brutale, ovviamente utilizzando i tasti L1, R1 e cerchio, vi accorgerete subito che Amplitude è molto divertente e che sicuramente vi farà passare anche delle ore di divertimento. proprio come ha fatto con me all'epoca. In conclusione, Amplitude è un bellissimo gioco musicale per PS2. Sicuramente uno dei migliori ed è anche abbastanza famoso. Se lo cercate su YouTube troverete centinaia di video. Lo consiglio assolutamente a tutti, quelli che adorano il retro gaming in generale o che adorano i giochi di PS2 e via dicendo. Detto questo, Val2Ambitude è un gioco stupendo da avere assolutamente nella collezione di giochi di PS2. Finisco qui la recensione. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! !